E' importante che le nuove generazioni comprendano il concetto di sostenibilità e tutte le declinazioni che ne conseguono come economia circolare, progettazione circolare, ciclo di vita del prodotto. Questa visita sembrava un approfondimento importante anche perché è comunque nella nostra regione, nel nostro territorio. Mi permette anche ai ragazzi di avere uno sguardo su quello che ci circonda e sulle possibilità anche per il loro futuro. L'aspetto della nuova month che mi ha colpito di più è sicuramente la produzione di Mater B dalle biomasse e di come questo Mater B venga utilizzato poi per produrre anche per esempio le bustine del supermercato o altri oggetti di uso comune. Queste bioplastiche possono essere poi compostate nell'organico e quindi poi utilizzate. Sono delle plastiche con le quali riusciamo a creare bicchieri, posate, stacchetti anche appunto per la spesa che sono direttamente biodegradabili e biocompostabili. Ciò significa che possono essere buttati direttamente nell'organico perché non inquinano. Penso che le nuove generazioni siano il futuro. Se riusciamo ad inculcare in loro il rispetto dell'ambiente, dell'altra persona, dell'altra persona, della sicurezza anche, abbiamo vinto. Grazie